Una delle opzioni che più utilizzeremo all'interno di Adobe After Effects sono il parenting di layer, ossia il parentare o aggiungere o linkare un oggetto ad un altro o, oltre ad un oggetto, linkare dei parametri Beh, introduciamo questo argomento In questa mia composizione ho due elementi Il primo è un cerchio che ha un'animazione che va da destra verso sinistra con due keyframe Ora, se io volessi agganciare quest'altro oggetto che ho inquadrato al mio primo oggetto in movimento potrei fare due cose La prima è andare a creare un'animazione che vada a ricalcare il movimento che io voglio applicargli come ad esempio se io voglio che da questo punto in poi se io voglio che l'oggetto si muova davanti al mio cerchio io dovrei andare a creare un'animazione applicando dei keyframe, spostando il mio oggetto e così facendo avrei creato un'animazione non proprio perfetta ma abbastanza decente per quello che era il mio scopo ossia creare un legame di parentela all'interno dell'animazione ma naturalmente in composizione più complessa come potete immaginare questo non è la via più facile la via più facile in realtà è quello del parentare degli oggetti all'interno delle mie modalità, qui all'interno della timeline a prescindere da quale siamo, in quella delle modalità di fusione e delle maschere o all'interno dell'altra modalità, troveremo quest'altra voce che è parent and link a cosa serve questa voce? a legare un oggetto ad un altro abbiamo questa spirale che cliccandola da un livello possiamo trascinarla ad un altro livello cosa significa? che se io vado sul livello del quadrato e trascino questa mia spirale sul livello del cerchio ho creato un legame di parentela questo legame di parentela viene richiamato nel menu a tendina infatti io ho utilizzato questo strumento visivo ma potevo tranquillamente aprire il menu a tendina e selezionare il livello a cui volevo andare a parentare il mio livello in questo caso ce n'è soltanto uno se io clicco play come vedete i due livelli sono parentati o meglio il livello del quadrato è il parentato al livello del nostro cerchio ed è parentato non solo all'animazione insieme ma tutti i parametri di trasformazione che noi abbiamo all'interno del nostro cerchio se ad esempio vado a scalare il nostro cerchio si scalerà proporzionalmente anche il quadrato a fianco se io vado a modificare l'animazione quindi la faccio partire da un lato come vedete il quadrato tenderà a seguire il cerchio cosa molto particolare da citare sui livelli di parentela è che nel momento in cui in un determinato momento nella timeline io vado a selezionare il livello di parentela quello è il punto dove la parentela viene costruita mi spiego meglio se mi metto all'inizio la timeline ho il mio cerchio a destra e il quadrato sulla sinistra se adesso leggo e creo la parentela tra i due livelli rimarrà tale la proporzione ma se io volessi che in questo punto preciso i due livelli combacino beh dovrò spostarmi letteralmente nel tempo in questo punto e andare a creare in questo momento il legame di parentela così facendo il legame di parentela l'ho instaurato in questo determinato punto nel momento in cui io sciolgo il legame di parentela in un punto qualsiasi cosa succederà? che tutte le opzioni che erano state variate dal legame di parentela rimangono tali quindi ho spostato quell'oggetto nello spazio ed ho letteralmente disunito il mio legame di parentela che posso andare a ricostruire ma ricordiamoci che il legame di parentela viene costruito nel punto della timeline in cui decidiamo di attivarlo e allo stesso modo viene reso viene distrutto questo legame nel momento in cui lo andiamo a cancellare i parametri del legame rimangono invariati cioè i parametri dove era arrivato il nostro elemento durante l'animazione nel punto della timeline vengono lasciati invariati questo è importante da capire quando andiamo a costruire un'animazione il momento in cui creare un legame di parentela se spostarlo all'interno del tempo se abilitare un legame in un determinato punto o meno se ad esempio lo attivo in questo punto la distanza tra i due oggetti sarà tale questo legame di parentela in questo caso che io vi ho mostrato è realizzato legando un livello ad un altro quando vado a creare questo tipo di legame andrò a legare tutti gli elementi tutti i livelli di trasformazione che ho all'interno del mio oggetto del mio livello ma noi abbiamo la possibilità di andare a parentare quindi a creare un parent soltanto di alcuni parametri come si fa? allora se noi prendiamo il nostro quadrato che non è imparentato a nulla e abbiamo il nostro cerchio che ha un'animazione voglio soltanto creare un link tra la posizione del mio quadrato e la posizione del mio cerchio senza andare a creare un link con tutte le altre opzioni di trasformazione mi basterà andare sullo stopwatch che è questo pulsantino qui con cui si abilitano i keyframe mantenere premuto il tasto alt o option della nostra tastiera e cliccare ci si aprirà un pannello particolare che è il pannello delle espressioni questo pannello ci permette di inserire delle espressioni all'interno delle nostre opzioni sono delle espressioni che possono essere ricorrenti o molto complesse per creare degli elementi molto ma molto complessi ma non andiamo ad affrontare in questa lezione bensì voglio mostrarvi che all'attivare di questa funzione si sono palesate quattro iconcine la prima è quella che attiva o disabilita le espressioni la seconda è quella che ci mostra il grafico dell'animazione del dopo espressione il terzo è questa spirale per il link il quarto invece serve per richiamare quelle che sono delle formule già precodificate di codice per le nostre espressioni quello che a noi interessa però è questo parametro ossia il linkare la nostra opzione di posizione del nostro livello del quadrato alla posizione del nostro cerchio così facendo si crea in automatico quella che è una riga di codice noi clicchiamo invio abbiamo linkato la posizione del nostro oggetto alla posizione del livello con l'animazione come vedete è un link ed una parentela completamente differente perché in questo caso non abbiamo detto di prendere esattamente gli stessi valori che abbiamo in questa posizione quindi cosa succede che nello spazio se in questo punto il nostro cerchio ha questi parametri dello spazio 966540 il nostro quadrato avrà gli stessi identici valori ricopiati da questo in pratica noi abbiamo creato un link perenne di questi valori e questo è un altro sistema per parentare un elemento ad un altro se per esempio noi vogliamo spostare il nostro oggetto anche avendo linkato la posizione possiamo andare a spostare l'anchor point così facendo come già spiegato nella lezione precedente abbiamo linkato la posizione del nostro oggetto ad un altro ma il parametro di anchor point è libero quindi possiamo andare a spostare il nostro oggetto nello spazio facendo in modo che l'anchor point rimanga al centro dove è stato dove si trova il parametro di posizione questo genere di argomenti sull'animazione sui link tra i vari livelli sono argomenti un pochino più ostici nel senso che devono entrare concettualmente nelle vostre menti per poi essere adoperate e utilizzate al meglio sappiate che queste tipologie di parentele sono molto avanzate possono aiutarci tantissimo quando andiamo a realizzare delle animazioni anche perché linkando in questo caso solo la posizione noi abbiamo i due elementi i due livelli completamente sciolti tra di loro quindi se io il cerchio voglio aumentare la scala posso farlo mentre il quadrato non ha risentito di questa variazione perché io non ho linkato tutti gli elementi tutte le opzioni di trasformazione ma ho linkato solo e soltanto un parametro tale link naturalmente può essere disabilitato o cancellato disabilitato cliccando su questo pulsantino che ci disabilita le espressioni che sono state generate se però lo riclicchiamo questa espressione verrà resa di nuovo abilitata ma possiamo andare a cancellarla semplicemente cliccando sul campo dell'espressione cancellandola e dando invio sulla nostra tastiera grazie a tutti